2500 km è la distanza che separa Altamura da Cardiff. Ve ne parliamo perché a Cardiff si gioca un'importante finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid. Un sogno ha invaso quattro ragazzi di Altamura che hanno deciso di partire da Altamura per arrivare a Cardiff con una 500 rossa che vedete qui alle nostre spalle. In rappresentanza di questi quattro ragazzi abbiamo qui Sandro e Giuseppe. Ma Sandro, fammi capire, cosa vi ha spinto a realizzare un progetto così ambizioso? Allora Donato, onestamente stiamo bevendo uno sprezzo. No, tutto come un gioco. Volevamo fare qualcosa che restasse nel caso fossimo andati in finale dato che la foto è stata già lanciata nella semifinale Juventus-Monaco restasse nel cuore degli Juventini e degli Altamurani specialmente. Quindi abbiamo preso questa iniziativa e siamo partiti alla volta di Mediaset perché fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a Mediaset che ci ha dato molta visibilità e quindi possibilità di realizzare questo sogno. Giuseppe, il vostro non è soltanto un viaggio per andare a vedere la semplice partita ma è un tour che si fermerà in parecchie tappe d'Italia e anche nel mondo. Ci dici di cosa stiamo parlando nello specifico? Se infatti Donato, per noi la meta è diventata quasi secondaria perché comunque il nostro viaggio avrà diverse tappe. Si parte già mercoledì da Roma perché c'è la finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio e lo Juventus Club Altamura e Biancolina ci supporta per questo evento. Poi dopo il 25 maggio la macchina partirà finalmente da Altamura alla volta di Cardiff e qui ci saranno varie tappe prima di giungere appunto a Cardiff tra cui Roma, poi andremo ad Amatrice perché comunque il nostro è anche un progetto solidale in quanto vogliamo portare un po' di Altamura anche in questi luoghi meno fortunati poi passeremo da Milano, Torino perché comunque Torino è la città dove è a sede la Juventus e poi usciremo, andremo a Parigi, Londra per poi arrivare a Cardiff sperando di arrivarci. Quindi Sandro effettivamente questo progetto di cosa ha bisogno di decollare di cosa ha bisogno per fare in modo tale che la 500 arrivi a Cardiff? Allora il progetto sta decollando perché abbiamo trovato un partner che si occuperà della logistica che è Autodenura Import Export Auto e abbiamo bisogno onestamente di altri partner per poter sostenere altre spese del viaggio e calcolate comunque che è un viaggio che è un progetto in sé perché porterà molta visibilità ad Altamura come città e alle aziende che si sosterranno date le varie tappe del tour che affronterremo. Volevo ringraziare anche il nostro fotografo ufficiale Danilo Di Sabato che si occuperà di foto e video in genere e volevo portare la vostra attenzione alla pagina seguiti su Facebook alla pagina Altamura to Cardiff dove troverete tutte le informazioni e le news. Grazie a tutti.